Noi presentiamo più che altro una situazione di forte disagio per una scuola ad altissimo tasso di pendolarismo con molte ragazzi e ragazze che provengono dalla provincia e che avranno una grossa difficoltà con i turni pomeridiani a raggiungere le loro case nei paesi della provincia, in casi estremi anche caramanico, anche verso le 9 di sera. Tutto il disagio nasce dalla necessità che non contestiamo di addirittura demolire questa scuola. Peccato che però questo molti genitori non lo ignorassero anche al momento dell'iscrizione. Si lamenta una scarsa trasparenza di fondo. Ieri la protesta, oggi le rassicurazioni da parte del presidente della provincia Antonio Zaffiri sul destino degli oltre 400 studenti del liceo Marconi di Pescara rimasti esclusi dalle elezioni. 17 classi verranno ospitate a ottobre nell'edificio della Ex-Fater e sui turni pomeridiani da far coincidere con gli orari del servizio di trasporto Zaffiri ha garantito la massima disponibilità da parte dell'azienda unica regionale. Seguirà anche un incontro con la dirigente scolastica Giovanna Ferrante. Gli altri studenti del Marconi sono dislocati in cinque plessi della città e a breve dovrebbero cominciare i lavori di demolizione dell'edificio scolastico di via Marino da Caramanico, interventi già rimandati più volte. Zaffiri spiega perché le soluzioni per i ragazzi non sono state trovate prima del rientro a scuola. Ieri mattina tra l'altro una ragazza ha rischiato di rimanere ferita perché durante una lezione in un'aula prestata dalla De Cecco è caduto un pannello che fortunatamente non ha colpito la studentessa. Il problema è sulla struttura ex Fater, il Palazzo Fuxas perché i lavori non sono stati ancora completati e qui crea il problema dello spazio. Adesso l'autonomia scolastica, il Consiglio d'Istituto insieme alla Preside decideranno se devono fare il doppio turno o chiedere in via straordinaria al Ministero la DAD per questi 20 giorni perché lì la struttura sarà pronta la prima settimana di ottobre. Abbiamo dovuto fare delle ordinanze per portare via gli arredi per arredare le scuole dove oggi i ragazzi vanno. Abbiamo lavorato e c'è un lavoro dietro pesante, pesantissimo fino a domenica hanno lavorato perché qualcuno ha creato istruzionismo e ha strumentalizzato anziché collaborare.